Quest'ora, domenica ci sono stati dei problemi nel dopopartita del derby Teramo-L'Aquila, arriveranno dei d'aspo, si è detto, anche nei confronti di giocatori e dirigenti dell'Aquila? Vediamo la responsabilità di quelli che hanno coperto la presenza di quei due invasori di campo. È chiaro che se accerteremo la responsabilità vedremo quello che dobbiamo adottare nei confronti sia dei due che hanno fatto l'invasione che di chi ha favorito l'immediata identificazione dei responsabili. Avete anche le immagini del dopopartita, di quello che è successo fuori? Abbiamo le immagini di tutto e quindi possiamo ricostruire, naturalmente per riferire compiutamente alla procura, tutto l'episodio che è avvenuto anche fuori dallo stadio, che è la cosa un po' più pesante. Anche perché i terramani hanno preso di mira non solo gli Aquilani ma anche le forze di polizia, tanto che abbiamo avuto anche dei danneggiamenti, quindi non possiamo fare a meno di non riferire alla procura della Repubblica. A proposito di procura, questa visita del procuratore quest'oggi, cosa vi siete detti e cosa gli ha fatto vedere? Quello che avete o quello che non avete? Siamo stati onorati di ricevere il procuratore e il dottor Giovagnoni che ci hanno fatto visita. Abbiamo ribadito la nostra leale collaborazione. Abbiamo parlato di problemi comuni, abbiamo ribadito la nostra disponibilità, la nostra realtà nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma in particolare della procura con la quale lavoriamo in stretto rapporto. Il procuratore non ha risposto su come ha trovato quantitativamente l'organico della questura. Lei cosa dice? Allora, io dico quello che ho detto l'anno scorso e sono d'accordo con il suo procuratore. Noi facciamo il fuoco con la legna che abbiamo.